Partecipa al concorso di Miss Italia nel 1995. Debutta nel 1997 come ballerina di Siviglia nel programma Macao. Reggia di Gianni Boncompagni e nei fotoromanzi. Abbandonati gli studi universitari. Studia recitazione con Beatrice Bracco e in seguito con Giulio Scarpati. Nel 1999 interpreta il ruolo di Virginia Castellano nella miniserie TV in due puntate. Morte di una ragazza per bene. Diretta da Luigi Perelli e trasmessa da Rai 1. L'anno successivo partecipa alla miniserie di Rai 2. Giochi pericolosi. Regia di Alfredo Angeli. Nel 2001 è tra i protagonisti del film Trille e prigionieri di un incubo. Reggia di Franco Salvia. Ed ha il ruolo di Giulia nel film South Kensington di Carlo Vanzina. Nel 2002 ritorna in tv. Interpretando il ruolo di Anna nella miniserie in sei puntate in onda su Canale 5. Ma il portiere non c'è mai. Dallo stesso anno è nel cast della sopopera di Rai 3. Un posto al sole. Dove interpreta il ruolo di Elena Giordano dalla puntata 1266 alla 1820. Dalla puntata 2023 torna nel cast del sopopera. Rimanendoci fino alla 2010. Nel 2005 interpreta il ruolo di Anna nel film L'uomo spezzato. Reggia di Stefano Calvagna. Nel 2006 prende parte a Un posto al sole. Cercasi Elena disperatamente. Versione estiva della sopopera di Rai 3. Ne farà parte anche nel 2007. Oltre ad interpretare il ruolo di Paola nella serie tv Carabinieri. Nello stesso anno gira la miniserie in otto puntate. La figlia di Elisa ritorno a Rivombrosa. Reggia di Stefano Alleva. Dove interpreta il ruolo di Emilia Radicati.